partite al comando si porta dall'esterno Olli sensazione nei confronti di Ciumbalicca speramosu quindi carta romana vantaggio con decisione sempre Olli sensazione lungo la curva in seconda posizione speramosu quindi Ciumbalicca al suo esterno segue carta romana ancora per linee interne Goldrake poi Golfer e Deuteronomio Cavalli ora all'ingresso in retta di arrivo con Olli sensazione in vantaggio nei confronti di speramosu poi carta romana per linee interne mattings segue Ciumbalicca Goldrake Goldfair per linee interne in coda siamo ora a 400 dal palo Olli sensazione subisce l'attacco esterno di speramosu che è passato in vantaggio inseguita all'interno da mattings più all'esterno da carta romana e Goldrake in vantaggio vantaggio speramosu nei confronti di mattings che sta passando di forza al suo interno nel finale mattings sta prendendo il sopravvento nei confronti di speramosu al terzo posto Olli sensazione al quarto Ciumbalicca e rivediamo ora le immagini con il numero sette dello schieramento mattings carletto fiocchi in sella bersaglio a sorpresa in questa ultima corsa di Napoli al posto d'onore il quattro di speramosu al terzo il nove di Olli sensazione quindi sette quattro nove il probabile e ufficioso arrivo della settima corsa di Agnano a risentirci venerdì prossimo